Poi dentro per Nainggolan, Nainggolan ancora, secondo tentativo, che gol! Raggio a Nainggolan, non c'è! C'è pochi minuti fa Ma la prima volta, non c'è il gioco! Patrick ha preparato il quinto, che pensa alla conclusione, prova la battuta con il sinistro, arriva un gol! Modric, sta incerrato il Real Madrid, consigue mettere il centro Modric Non lo ha remattato a Nadia, la prima attacca di Marcela! Nooooooo! Oddio! Modric, non c'è stato l'Evo! Nel di per il marco, se metìa un gol adentro, che goloso! Le pegano la pelota a Koke, il envio di Koke, il secondo post, il rimate di Griezmann. Oh, 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 oh... Non può mettere la bota perché si ha quedato un metro per dietro, ha fatto un po' di intensità al capitale del Villarreal. E il mio di Asenjo se la lleva a Sandivina. Sous-titrage Société Radio-Canada